Sul sito internet del Consiglio regionale, nella sezione Amministrazione trasparente, è reperibile la Carta dei Servizi 2013. La pubblicazione è strutturata in schede che descrivono il servizio offerto, le modalità di fruizione e le tempistiche per la sua erogazione da parte delle strutture. La Carta dei Servizi è disponibile anche in versione cartacea all'Ufficio in relazione con il pubblico del Consiglio regionale.